Rapina in villa ha catturato un bandito e i carabinieri hanno arrestato uno dei presunti responsabili del colpo messo a segno lo scorso 27 febbraio nell'abitazione di un imprenditore di Monte Carlo picchiato e derubato con la moglie e la figlia. Perini cede il 49,9% delle azioni annunciata in conferenza stampa a Milano l'operazione d'ingresso della famiglia Tabacchi e di Lamberto Taccoli all'interno del gruppo Perini Navi, aumento di capitale da 27 milioni di euro. Tutti i confronti in diretta TV, ecco il calendario dei confronti pubblici organizzati da Noi TV Rete Versilia News tra i candidati sindaci dei 5 comuni al voto in provincia di Lucca. Ritorna il Barzellettiere semifinale il 2 e 23 giugno, è tutto pronto per la quarta edizione di Mi Fai Sganascià, la competizione che incorona il miglior Barzellettiere della provincia. Lo sport e il calcio quando la lucchese spugnò Arezzo il 15 novembre 2015 i rossoneri passarono 2 a 1 sul campo di Amaranto con doppietta di Fanucchi. Baseball, nuove Pantere graffianti a metà, in Serie B la squadra lucchese gioca alla pari gara 1 a Livorno ma cede di schianto nella seconda. Bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi, l'apertura dunque la cronaca ma in questo caso possiamo dirlo una buona notizia. I carabinieri che hanno assicurato la giustizia, il presunto responsabile di una rapina messa a segno lo scorso 27 febbraio, rapina che destò molta preoccupazione. Una famiglia di Monte Carlo venne legata, picchiata e rapinata. Ci spiega tutto Egidio Conca. Avevano terrorizzato un'intera famiglia lo scorso 27 febbraio a San Salvatore di Monte Carlo. Una banda di rapinatori senza scrupoli che aveva assaltato la villa dell'imprenditore nel settore delle moto Giovanni Pieroni, minacciato, picchiato e immobilizzato insieme alla moglie e alla figlia. I malviventi erano poi fuggiti con un bottino di alcune migliaia di euro. Due mesi e mezzo dopo, la procura di Lucca e i carabinieri del reparto operativo, guidati dal tenente colonnello Dario Anfuso, hanno potuto annunciare la cattura di uno dei presunti componenti della banda. Si tratta di un kossovaro di 37 anni, residente a Cascina, Agron Asani, e i militari sono sulle tracce dei suoi complici, almeno quattro. Il procuratore capo di Lucca, Pietro Sucan, e il sostituto Salvatore Giannino, titolare dell'inchiesta, hanno spiegato che sono stati due gli elementi decisivi per l'indagine. Il comando quella sera si era allontanato in auto, ma dopo poco, nella concitazione della fuga, la loro Fabia Scoda era finita fuoristrada. I malviventi avevano quindi mollato l'auto ed erano fuggiti a piedi. Indagando sulla proprietà della vettura, i carabinieri sono risaliti al kosovaro, peraltro già condannato in passato per furti in abitazione. Ad inchiodarlo ulteriormente il ritrovamento sull'auto dello scontrino dell'acquisto dei guanti usati per la rapina. Al momento dell'arresto Agron Asani era agli arresti domiciliari e sottoposto all'obbligo di firma per altri reati. Adesso è in carcere al San Giorgio. Soddisfatto il procuratore Sucan per due motivi precisi. Il primo motivo è la dimostrazione di una capacità investigativa complessa, ma approfondita e svolta in tempi ragionevolmente rapidi da parte dell'arma dei carabinieri, coordinati dal collega dottor Giannino. E questa è la prima soddisfazione. La seconda soddisfazione è che lo Stato di diritto ha risposto in questi termini ad una sfida della criminalità che è preoccupante, che crea insicurezza, che crea sensazione di insicurezza e quindi l'arresto di questa entità e di questo genere, secondo me, può avere un effetto tranquillizzante. E soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Monte Carlo Vittorio Frantozzi per il brillante esito di questa operazione. Adesso parliamo di economia. Un'economia locale e non solo perché è stato siglato l'accordo con cui la Perini cede il 49,9% delle quote alla famiglia Tabacchi. Dettagli da Massimo Mazzolini. Faper Group Holding di partecipazioni fondata da Fabio Perini ha firmato oggi a Milano un accordo di partnership con Phoenix, società che fa capo alla famiglia di Dino Tabacchi che sarà rappresentata dal figlio Edoardo. L'operazione si è sviluppata dopo l'incontro tra imprenditori con la stessa visione e gli stessi valori. La partnership si cementerà attraverso un aumento di capitale di 27 milioni di euro, al termine del quale la compagine azionaria sarà la seguente. Faper Group dei Perini 50,01%, Phoenix SRL 49,99%. Questa operazione è il coronamento del percorso che Perini Navia ha intrapreso e che, dopo due anni di profonda riorganizzazione strategica e organizzativa, le consente di presentarsi al mercato agile e pronta a lanciare nuovi modelli e importanti innovazioni. La nuova società sarà così in grado di investire per mantenere la leadership tecnologica che è propria del suo DNA sin dalla fondazione. Da oltre 30 anni Perini Navi è riconosciuta globalmente come campione di unicità sia nell'innovazione che nel design. Edoardo Tabacchi, il nuovo socio, ha commentato «Entrare nel mondo della nautica dalla porta principale è per me e per la mia famiglia motivo di orgoglio ed emozione. Incontrare Fabio Perini, che non ho dubbi nel definire il più grande genio inventivo della nautica e non solo, è stato l'inizio di una straordinaria avventura che, ne sono certo, ci porterà molto lontano». Sicuramente di questa operazione si parlerà durante la quattro giorni, la prima edizione del Versilia Yachting Rendezvous a Via Reggio. Vediamo. Apre domani la prima edizione del Versilia Yachting Rendezvous, il nuovo appuntamento internazionale dedicato alla nautica dell'Alto di Gamma, in scena a Via Reggio dall'11 al 14 maggio. Per quattro giorni, dalle 11 alle 21.30 e domenica fino alle 18, una grande festa dello yachting nel cuore del distretto nautico più grande del mondo. Sono 72 gli yacht che si sono dati appuntamento nelle darsene di Via Reggio per mostrare al pubblico la loro bellezza e la capacità progettuale e realizzativa della canteristica nautica italiana e non. A terra ben 117 aziende espositrici, cantieri, accessori e componenti, esponenti della filiera produttiva e dei servizi di eccellenza legati alla grande nautica. Ammiraglia del primo Versilia Yachting Rendezvous, Atlante, mega yacht di 55 metri, opera d'arte del gruppo Ferretti, pluripremiato nel 2016. Sarà invece Aquarius, la regina a vela dello show, mega yacht di 46 metri costruito da Perini Navi, primo cantiere al mondo in questo segmento. Alla mostra sono presenti i primi tre produttori mondiali di grandi yacht, tutti marchi rigorosamente italiani. Il gruppo Azimut Benetti, il gruppo Ferretti Riva e San Lorenzo Yacht, che metterà in mostra un 36 e un 33 metri di recentissima costruzione. A fianco alle imbarcazioni in acqua, il percorso espositivo lungo la via Coppino, con i suoi artigiani e le più tradizionali officine, che valorizzerà la filiera legata alla grande nautica. E ora parliamo di politica, perché abbiamo stilato il programma definitivo dei confronti pubblici organizzati da Noi TV e Rete Versilia. Cinque confronti nei cinque comuni che vanno al voto l'11 giugno in Lucchesia e in Versilia. Anche quest'anno Noi TV e Rete Versilia News forniscono agli elettori un'occasione preziosa per decidere chi votare tra i candidati a sindaco del proprio territorio. Ecco il calendario delle serate di Occhio al Sindaco, che saranno ad ingresso libero e che verranno trasmesse in diretta televisiva sulle nostre due emittenti. Si parte venerdì 19 maggio con il confronto tra i candidati a sindaco a Porcari, che sarà ospitato dall'auditorium Damassa Carrara. Poi, lunedì 22 maggio, appuntamento al teatro accademico di Bagni di Lucca per la serata dedicata ai candidati nella città termale. Venerdì 26 maggio è il turno degli aspiranti alla carica di primo cittadino a Forte dei Marmi. Il confronto è in programma a Luna Hotel del Forte. Martedì 30 maggio c'è la già annunciata serata al Teatro del Giglio con i candidati a sindaco di Lucca. Infine, lunedì 5 giugno, ultimo appuntamento con il confronto a Luna Hotel di Camaiore per la sfida tra i candidati alla guida della città versiliese. Orario d'inizio per tutti i confronti alle 21.15 circa. Stefano Polidori è il nuovo vicepresidente dei giovani di Confindustria Toscana Nord, attivo da sempre nel gruppo di giovani di Confindustria. Prima di Lucca e adesso della realtà che unisce Lucca, Pistoia e Prato, ha una specifica delega ai rapporti con il gruppo regionale che conserverà anche nel nuovo ruolo. E a proposito di Confindustria, vi segnalo che in questo giovedì sera alle 20 su Noi TV andrà in onda lo speciale Zoom realizzato in occasione dell'elezione del nuovo presidente. A proposito di appuntamenti su Noi TV e non solo, parliamo del Barzellettiere perché ormai manca davvero poco alla quarta edizione. Attenzione, il Barzellettiere di Lucca sta per tornare. È tutto pronto per la quarta edizione di Mi Fai Sganascià, la competizione che incorona il miglior Barzellettiere della provincia, organizzata da Anfas con il sostegno di Noi TV e Rete Versilia News. Dopo il grande e crescente successo delle prime tradizioni, si riparte dall'eliminatorio per selezionare gli aspiranti campioni. Due gli appuntamenti con le semifinali, venerdì 2 giugno 21.15 a lunata nella sala dei donatori di sangue Giannini e venerdì 23 giugno, sempre alle 21.15, sul palco del giugno Porcarese in piazza Felice Orsi a Porcari. Sempre d'ingresso gratuito per il pubblico. Noi TV e Rete Versilia News registreranno le serate e le trasmetteranno integralmente nei giorni successivi. Nata nel 2014 per incoronare il miglior Barzellettiere di Lucca, Mi Fai Sganascià ormai una manifestazione di respiro regionale. In sole tradizione ha richiamato centinaia di persone che hanno partecipato alle varie serate nei ristoranti e nei teatri. Non solo le famiglie dei ragazzi seguiti da Anfas Lucca, ma soprattutto tantissimi cittadini che grazie alla manifestazione hanno avuto modo di conoscere da vicino i tanti progetti di integrazione e socializzazione promossi dall'associazione lucchese. Il Barzellettiere infatti è nato proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto al mondo della disabilità intellettiva e relazionale e creare un'occasione di inclusione e di relazione leggera e aperta a tutti. L'iscrizione per concorrere è gratuita. Per informazioni sul concorso e per iscriversi è sufficiente chiamare 393 2911 37 o scrivere a barzellettiere lucca chiocciolagmail.com. Adesso parliamo di una bella iniziativa per far riscoprire agli studenti la storia della lucchesia e della Versilia. La storia del novecento lucchese arriva sui banchi di scuola dalla Piana alla Versilia passando per la Garfagnana. Questo grazie all'iniziativa promossa dal giornalista Paolo Bottari in collaborazione con il Proveditorate agli studi e l'associazione lucchesi nel mondo con la partecipazione delle nostre emittenti Noi TV e Rete Versilia News. Ad ospitare uno dei tre incontri è stato il liceo Galileo Chini di Lido di Camaiore che in collaborazione con l'Istituto Marconi di Viereggio ha portato i ragazzi a diretto contatto con la storia dello scorso secolo. Prendendo spunto dal libro Lucca XX, i ragazzi delle classi quinte ormai prossimi all'esame di maturità hanno ripercorso attraverso relazioni, immagini e documenti i fatti del novecento che hanno interessato i nostri avi. Volevo che della storia del novecento se ne potesse parlare nelle scuole perché mi sono reso conto che comunque se gli studenti sanno poco della storia locale, soprattutto quella dell'ultimo secolo e è la storia che ha cambiato un po' le sorti anche della nostra vita. Tra i temi affrontati quello delle emigrazioni dei lucchesi, sempre più attuale alla luce dei fenomeni migratori di oggi e della difficile sfida dell'accoglienza. La vicenda che la popolazione lucchese, più in generale la popolazione italiana, ha vissuto nel resto del mondo, deve far pensare e pur paragonando situazioni che sono per certi versi molto diverse, ci può aiutare ad indirizzare i più giovani ad uno spirito di apertura, di comunicazione, di rispetto verso l'altro. E' in programma questo venerdì, a proposito di giovani, alle 17.45 nella chiesa di Santa Maria Assunta di Carignano, il concerto di primavera degli studenti della scuola secondaria di primo grado Masei di Mutigliano dell'Istituto Comprensivo Lucca IV, sulle note di Elvira. Questo il titolo del concerto diretto dal professor Antonio della Santa, presentato da Alessandro Tesi, autore anche dei testi. E ora ci spostiamo in Valle del Serchio perché con Rontano è cominciata la bella iniziativa dal nome Festival delle Frazioni. Ha preso il via domenica a Castelnuovo Garfagnana al Festival delle Frazioni, iniziativa voluta dall'amministrazione comunale in collaborazione con le tante associazioni del territorio, con il preciso scopo di valorizzare i tanti borghi e paesi della zona. Primo appuntamento a Rontano, il bellissimo borgo ricco di storia e di tradizione, con una monumentale chiesa a tre navate dedicata a San Donato. In pochi sanno che nel passato questo paese era addirittura un comune, anche per questo nel centro storico si trovano palazzi di grande pregio che raccontano una storia di notevole importanza. Oggi gli abitanti del paese sono circa 80 che mantengono vivo il borgo e per questa festa hanno saputo organizzare una giornata ricca di eventi e di degustazioni gastronomiche con tanti prodotti tipici locali. Peccato per il temporale che nel primo pomeriggio ha condizionato in parte la manifestazione che è comunque ben riuscita. Sì, si è fatto per far rivivere un po' il paese almeno una volta o due volte l'anno, insomma questa è solo una delle prime feste che si farà. Poi credo che nel corso dell'estate faremo qualche altra festa. Organizzare tutto è tutto il paese che partecipa e tutti ci mettiamo al lavoro e siamo qui, nessuno si tira indietro per organizzare le feste. Domenica la festa si sposterà a Gragnanella dove sarà possibile trovare un paese in festa con tante iniziative. È tutto per la prima parte del Tg, una pausa e poi la pagina sportiva.